Un progetto per migliorare la fruibilità e la vivibilità dei luoghi della città da parte delle donne e delle persone LGBT. Si chiama Posti, pari opportunità e socialità nei territori urbani e nell'ambito del programma Città Amica e promosso dal Comune per garantire modalità e livelli di sicurezza adeguati alle esigenze di genere. A tal proposito è prevista l'apertura di sportelli presso le prime quattro municipalità, servizi di ascolto e consulenza, ricerca sociale, interventi nelle scuole e iniziative di sensibilizzazione territoriale. Si tratta di organizzare dei presidi in cui ci sono da una parte gli sportelli attivi e aperti nelle varie municipalità che servono per raccogliere un po' le esigenze e le stanze delle donne. Dall'altra parte una sorta di monitoraggio su quali sono le esigenze prioritarie proprio rispetto alla sicurezza. Il progetto prevede inoltre anche dei corsi di formazione per gli operatori che nel sociale operano su questo terreno. E sono tanto i vigili urbani, quanto i carabinieri, quanto i presidi sanitari, cioè tutti coloro che poi accolgono le donne in situazioni di disagio. Quello che noi vogliamo favorire è una presa di coscienza da parte delle donne che la sicurezza è un diritto, è un loro diritto fondamentale e che questo diritto va esercitato costruendo passo dopo passo un quadro conoscitivo degli elementi di insicurezza, dando alla politica e alle istituzioni le informazioni necessarie per poter intervenire, per sapere dove, quando, in che momenti della giornata, in quali momenti della vita si manifesta l'insicurezza, come prevenirla e come evidentemente riprimere i fenomeni che generano l'insicurezza.